Grazie Presidente. Assessore, la ringrazio per la dettagliata, puntuale e chiara declinazione delle norme che ha messo in campo per questo assestamento di bilancio. Le chiedo soltanto alcune cose puntuali. Ricorda che nella scorsa finanziaria lei aveva approvato un mio emendamento sulla bicipolitana. Mi pare, forse mi ha sfuggito, ma mi pare che non ci sia nulla in questa legge di assestamento, neanche per un avvio, per iniziare una progettazione. Però probabilmente potrebbe essere anche che mi sbagli. Le chiedo anche se è previsto un aumento di posta sulla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Sappiamo essere un tema molto, molto delicato e che la maggior parte dei comuni si trova in grosso affanno su questo, visto che non è in conto capitale, ma rientra nel conto spesa. Se, visto l'incontro che lei ha fatto a Udine con la Commissione Ambiente a proposito del parco urbano e la dismissione dell'RFI di quella parte, insomma, di ferrovia e anche da quello che io ho letto dalle notizie di stampa, io sono stata contenta, insomma, della sua apertura su questo argomento dal momento che negli anni precedenti c'è sempre stata una forte chiusura da parte di RFI nel trovare una risoluzione su questa proposta. Ecco, volevo sapere se non c'è nulla in questa legge di assestamento, perché ancora ci sono interlocuzioni e se è soltanto da parte sua comunque c'è l'apertura oppure davvero anche RFI ci crede. Per quello che riguarda l'investimento sulle scuole di Pordenone, benissimo, sono concorde, mi fa piacere, volevo solo capire se sono già stati individuati degli edifici, delle aree e se si è privilegiato la nuova edificazione o invece la riqualificazione di edifici esistenti, onde evitare di fare... Lei ha parlato di Pordenone, ecco, anche per evitare ulteriore consumo di suolo e proprio a proposito del consumo di suolo benvengano i parcheggi per intensificare l'intermodalità e su questo mi trova pienamente d'accordo. Magari se è possibile, ovviamente non so in quali pieghe delle norme si possono individuare eventualmente un qualche regolamento che evidenzi la possibilità di evitare di utilizzare aree verdi per poter fare nuove cementificazioni. Sarebbe veramente un delitto dal momento che ci sono già grossi problemi di aree verdi, insomma, all'interno dei comuni. Ho visto sopra i 30.000 abitanti, giusto? Mi pare di ricordare questo. In più, benvenga al Com 52, da 52 a 56, il finanziamento sull'ATER, nel Programma Sicuro Verde e Sociale per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Ma non le sembra che 11 milioni di euro siano un po' pochi, visto soprattutto l'enorme portata di questa finanziaria, di questo assestamento di bilancio. Mi accodo anche io sulle due questioni relative alla variante di Aquileia e al passo di Monte Croce Carnico. Sono sicura, confido davvero, che per quanto riguarda l'ultimo, al passo di Monte Croce Carnico, si proceda con il cronoprogramma che è stato avviato a marzo e che lei ha sottoscritto, insomma, e ha anche espresso qui in question time. Insomma, io sono fiduciosa che questo proceda in quella direzione. E sulla variante di Aquileia c'è ovviamente un fianco scoperto, nel senso che il dibattito con i cittadini credo che sia aperto. L'amministrazione comunale, da quanto ha esplicitato prima delle elezioni, ha manifestato interesse solo per una parte della variante di progetto, così come desiderata dal FVG Strade, e volevo capire qual era la posizione dell'assessorato.